per dire, per dire, allora diceva, allora come si fa? Allora ho capito, lo ascoltiamo, non c'è problema, perché in effetti guardiamo non c'è rime, se sono scema, allora la si mette a Copa Havana, non c'è problema, le rime fiocca. E siamo qui a Copa Havana, le è appena passata. Aspetti, perché a me a volte mi manca l'ispirazione, se non mi viene. Duccio, se non ti viene, no, no, mi viene, ma Duccio, se non mi viene, se non mi viene, mi viene e fa, ho fatto la perifresi, si, ho fatto la perifresi, fa la licenza poi, stavolta, si può cambiare, e siamo qui a Copa Havana, è appena passata, è appena passata, è appena passata, ne avrei una, però, cambio, compro un avvocato. Let it be, ho tradotto let it be, me lo mette ora, l'ultimo canta, se mi chiami non c'è, ho tradotto let it be, let it be non c'è problema, perché let it be l'ho capita io, nell'apparizione mariana, dice, ma per me ricam's to me, ho capito, la traduzco io, non c'è problema, quello mi pede disemigliato come cosa c'è, quando sono un po' abbattuto o mappare la Madonna e mi diceva la Lucio lascia fare o a letto stanco morto la mappare all'introvviso e mi mercia di suffiso lascia fare lascia fare o lascia fare se non è caso te lascia fare da lei con la Madonna lascia fare o mappare la Madonna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.